Se siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio lo abbandonano e gli ha evitati secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa, alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, dandemi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. In dito gli ultimi sposi, se siete seduti accaddi, adatteli alla mano destra e se volete potete nel vostro ritmo riconfermare il consenso del vostro matrimonio, insieme a Dio e a casa. Il Signore inizia il confinamento del vostro amore e sia con voi sempre. Io Dio e Dio e Dio e Dio e Dio. Con la grazia di Cristo prometto di essere e di vedere sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Vi diamo ancora i tuoi giorni fratelli di amore. Io astro e ho portato a te in paura di Cristo. Con la grazia di Cristo prometto di essere e di vedere sempre. Il Signore è un incontente misericordioso, conferre il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si mette di ricordarvi nella sua benedizione. L'uomo non si separa da ciò che Dio riesce. Amo.